A circa un anno dalla consegna dei lavori, ancora non sono cominciati gli interventi per il restauro e messa in sicurezza dello storico campanile di Montepagano a Roseto. Lavori per un importo complessivo di circa 532 mila euro, su volontà della soprintendenza e finanziato dal Ministero dei Beni Culturali ottenuto dalla precedente amministrazione. Al momento però è ancora tutto fermo, nonostante cantiere e area recintata. In merito a questo è interessato ovviamente il Consiglio di quartiere del Borgo Paganese, che avrà un incontro con l'amministrazione comunale per avere lumi sulla vicenda, come conferma Simone Loisi. Un anno fa ci fu la consegna dei lavori a Montepagano circa, il mese di agosto dello scorso anno fu montata l'impalcatura e da quel giorno non si hanno più notizie. Come Consiglio di quartiere abbiamo anche chiesto informazioni all'amministrazione, nei prossimi giorni avremo un incontro con l'amministrazione e cercheremo di capire le motivazioni di questa lungaggine per quanto riguarda i lavori del campanile. In qualche maniera bisogna trovare la strada per poter risolvere il problema perché è un problema che si sta allungando troppo. Si è perso tanto tempo fino ad adesso? Si è perso un anno praticamente perché la consegna dei lavori ad oggi è passato praticamente un anno. È uno dei monumenti della città di Roseto, non è di proprietà solamente di Montepagano, quindi rappresenta un biglietto da visita importante per tutta la città anche perché mettere in sicurezza quel monumento significa mettere in sicurezza le famiglie, le attività che abitano, i bambini che giocano lì sotto e dare a Montepagano appunto un monumento, consegnare a Montepagano un monumento sicuro e restaurato.